Sielo dato Gesù Cristo e avanti con Maria. L'altro ieri ho avuto la consegna della conferma della condanna a mio riguardo da parte della Santa Sede. Questo testo che ho qui con me è un testo stracolmo di canoni del codice di diritto canonico. E Don Minutella, rispetto ai tanti pastori bizzarri, eretici, stravaganti, ballerini, canterini, rinunciatari del credo, camerieri in chiesa eccetera che invadono i social network, è trattato alla stregua di un criminale. Il punto 16 di questo documento storico dice che io vengo condannato perché attraverso i social network ho causato sconcerto e ho leso la comunione ecclesiale con grave danno per tutti i fedeli, raggiunti dalle sue affermazioni contro la Chiesa, contro Papa Francesco e contro l'Arcivescovo. Evidentemente in Vaticano si sono, diciamo così, chiusi dentro una roccaforte e non si rendono conto che il dissenso, loro malgrado, nei confronti di questo bizzarro pontificato, tragico pontificato, è un dissenso sempre più ampio. Ad ogni modo, l'unico vero capo di accusa è che non rinuncio a rimanermene fino in fondo, convinto che in questo momento nella Chiesa c'è confusione. Un testo bizzarro dunque perché è surreale, pieno di incongruenze, privo di lucida e sana obiettività che risente del travaglio emotivo di questi poveri uomini al governo nella Chiesa per il fatto che un prete, un povero prete di periferia che fa odor di pecore, e anche se hanno cercato di strappargliele queste pecore, rispetto a tanti altri non si è ancora piegato al ricatto di inchinarsi di fronte al Nabucodonosor dei nostri tempi. Non è sorprendente, ormai è quasi certo, che presto circolerà un testo in cui si richiede cieca fedeltà al governo attuale della Chiesa. Del resto ricordo, proprio all'inizio di questo tragico pontificato, è circolato nelle parrocchie e nelle diocesi un foglio che interpellava riguardo delle cosiddette aperture pastorali verso le situazioni regolari. E al sottoscritto, nel mese di novembre, è stato chiesto di fare questo pubblico atto di fedeltà a Papa Francesco, che evidentemente è qualcosa di diverso, lo ribadisco dal romano pontefice, alla maniera della più nota delle dittature latino-americane. Non stanno avendo riguardo dunque del mio sacerdozio. E perciò inizio col rivolgermi a te, Cardinale Beniamino Stella, prefetto della congregazione che difende i sacerdoti. Ricordati che il dragone rosso, in Apocalisse 12, getta giù un terzo delle stelle. Non vorrei che tu fossi tra queste, tu che non hai avuto riguardo nei confronti del mio sacerdozio. Prima il Vescovo Corrado. Ora tu, Cardinale Stella, sotto l'occulta regia di chi vi asserve, avete compiuto un autentico atto di profanazione di cui corrisponderete dinanzi a Dio. Avete distrutto, distrutto il cammino di una comunità parrocchiale che fino a prova contraria era una parrocchia cattolica, eucaristica, mariana, dove non era permesso, come invece permettete che avvenga, che circoli il pensiero eretico dei vostri metra pensere che fate bene a tenerve lì. E avete distrutto questo cammino. E che siete, a dire il vero, meritate compassione, perché siete emotivamente provati. Credevate che con la stravagante alleanza dei media, a partire dalle Iene, ciò di cui dovreste vergognarvi, non solo perché avete cercato questa alleanza, ma perché lo citate in un documento ufficiale della Santa Sede, ditemi voi, cari amici, se c'è più mondo, anzi se c'è più Chiesa, Ciò la dice lunga sul grado della serietà di questo governo attuale. Siete emotivamente provati, perché non siete riusciti, nonostante queste alleanze, a delegittimare il sottoscritto. Ancora oggi, là dentro, mentre scrivete cose incredibili sul mio conto, e chiudete gli occhi di fronte ai preti che dicono di non voler citare il credo come roppa pesante, ed è solo l'ultimo dei tanti esempi ed episodi sparsi nella povera Chiesa Cattolica, non riuscite a spiegarvi come mai io stia ancora in piedi, come mai io sia riuscito a sopravvivere a questa macchina del fango senza precedenti. E così dimenticate che il diavolo fa le pentole, ma scorda i coperchi. Voi non siete più rappresentanti di quella che si chiamava Santa Sede, ma di Babilonia, che come ho detto altrove è una prostituta indegna. Allora avete cercato di delegittimarmi con le iene. In realtà io sono rimasto felicemente in piedi, perché forse a voi sfugge, care Eminense, cari Vescovi che state lì a giudicare il mio operato, che questa è quella che mi tiene in piedi, la corona del rosario. In realtà non avete fatto altro che cercare di mettermi il popolo di Dio che fiuta dove sta la verità contro, e in realtà ancora lo avete convinto della ragionevolezza delle mie affermazioni. E se credevate, come speravate, di isolarmi, rimuovendomi violentemente dalla parrocchia con tale macchina diffamatoria, Dio si è preso gioco di voi, perché ora la mia parrocchia, quella che mi avete tolta a Palermo, si è diffusa in tutta Italia e va dalla Sicilia al Friuli, Venezia, Giulia. Soprattutto dopo il vergognoso programma di Rai 1, con l'indecorosa presenza del placido sanguinario Don Mauro Leonardi, un programma nel quale è ben inteso, ci mancherebbe altro. Voi della Santa Sede non c'entrate nulla, non siete coinvolti in queste macchinazioni contro il sottoscritto, non siete stati voi ad appoggiare quel programma lì, è soltanto la mia malvagità eretica che mi spinge a pensare che ci sia la vostra firma. Non è che qui adesso è più il tempo di stare a chiedersi cosa fare. Ormai, dall'altra parte, cari amici, hanno suonato la tromba eretica dello scontro con lo spirito cattolico, perciò da quest'altra parte si suona altrettanto la tromba, come loro non pensavano. Siamo pronti alla battaglia, non ci tireremo indietro. Anche se siamo inferiori per numero e per alleanze mondane che non ci servono, abbiamo ciò che fa la differenza e che condurrà la vittoria. Eccolo qui, eccola qui, la celeste condottiera, la beata Vergine Maria di Fatima. Perché tanto, in un modo o in un altro, nella scrittura lo troviamo presente, e poi anche nella storia della fede cristiana, Dio è sorprendente e può ribaltare in qualunque momento le sorti di una battaglia. Anche se sono di più, hanno i poteri forti, i poteri occulti da quell'altra parte, però in qualunque momento Dio, capito, può mandare un virus letale, è chiaro, è lì, tra le truppe avversarie, è fatta. Abbiamo vinto senza neanche combattere, capito? Tutto sta da quale parte sta Dio? Pensate voi che stia da quella parte? Perciò che stiano molto attenti. All'Epanto, qui non stiamo giocando, le truppe navali cristiane erano notevolmente inferiori rispetto all'ingente schieramento musulmano, ma con la corona del rosario e con la benedizione di San Pio V, Papa Bigotto, hanno vinto. Qui siamo in presenza di qualcosa di peggio che all'Epanto. È nuovamente in gioco la sopravvivenza della Roma cattolica che verrà salvata dalla Madonna. I tentativi diplomatici e riguardosi non servono più a nulla, servono solo a rafforzare l'avversario. L'insolenza con cui il governo attuale di Bergoglio avanza nell'eresia strisciante, conducendo all'errore le masse, è la mano armata con cui il misericordioso e pura i dissidenti con accolpi di canoni impone uscire allo scoperto. Ora o mai più, veramente? È così, altrimenti oltre che ipocriti rischiamo di diventare stupidi. Quanto ci siamo accorti dell'impostura? L'abbiamo già tutti contro, persino i familiari, quelli accecati dal potere occulto dei media, per non parlare di vescovi e sacerdoti, molti dei quali lieti e sorpresi di potersi trovare finalmente in una chiesa liquida, neomoderna e neoluterana. Cosa andiamo ancora elemosinando? Ci sono social network che stanno dalla parte giusta, che mettono in evidenza le stravaganze e poi riportano l'Angelus, la catechiesi del romano pontefice, del papa. Questo è stare con un piede in due staffe o viceversa. Vi ricordo che il sottoscritto ha dovuto vedere la cattedrale di Palermo, quella che oggi è diventata una buona osteria, riempirsi al cenno del vescovo per una vergognosa assise di preghiera, contro l'eretico Don Minutella. Amici cari, questa è la verità, è il 2018 e l'anno scelto dalla Santa Vergine, credetemi, essi non lottano contro di noi ma contro di lei, e lottano loro nel nome di Lucifero, che è il loro padrone, e noi nel nome della Santa Vergine. Se abbiamo deciso di rimanere cattolici di fronte a questa impostura unica nella storia della Chiesa, vi prego di venire fuori, scrivete alla Santa Sede, alla Congregazione per i laici, che così, stando le cose, volete anche voi, come Don Minutella, andare via da questa falsa Chiesa. Volete anche voi la condanna e la scomunica. Non possiamo stare oltre con questa multinazionale della vergogna e della menzogna. Quando noi saremo già con Dio un giorno, e quando la Chiesa finalmente uscirà da questa impostura anticristica, allora noi verremo celebrati come difensori della fede cattolica, come tanti piccoli atanasio. Come ho annunciato ieri, adesso mi rivolgerò direttamente a Francesco per interrogarlo sui contenuti. Non su tutti, perché se no non ce ne andiamo più, talmente sono tante le cose dove lui ha creato confusione, ma comincerò questa sera su un argomento specifico, la comunione ai divorziati risposati. Seguite con attenzione questo, perché se ho creato confusione io, sarò io degno e passibile di condanna. Se è stato Bergoglio, è lui che deve essere condannato. Seguirò un metodo otomista, nel più classico dei procedimenti seguiti da Sant'Omasso d'Aquino a riguardo di Amoris Laetitia. Primo, sic proceditur, cioè sembra che è. Secondo, sete contra, ma intanto si dice terzo, respondeo dicendum. Ne tirerò la conclusione che i prelati della Santa Sede hanno perduto, come la Madonna aveva detto a Sor Lucia, ogni obiettività, e pertanto le loro sanzioni canoniche sono inutili e ingiuste, perché fautore della confusione è Francesco, non quanti chiedono in un modo o in un altro di chiarire. Dunque, primo punto, sic proceditur, sembra che. Il capitolo più controverso di Amoris Laetitia è il capitolo ottavo perché esamina le situazioni più difficili, e la confusione e l'ambiguità mai tale in nessun documento ufficiale non arriva però dal testo, ma da tre note a piedi pagina. Già questo, che è un po' insolente come lo è Francesco, arriva a capire che è una scelta strategica, come se da questa parte siamo tutti stupidi. Le prime due note lasciano intravedere la possibilità di accedere alla comunione per i divorziati e risposati. La nota 336 è posta a commento del testo. Il testo dice le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi. La nota 336 ne trae che nemmeno per quanto riguarda la disciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare non c'è colpa grave. La nota 351 è a commento di un altro passo di Amoris Letizia che dice A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti è possibile che entro una situazione oggettiva di peccato che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo pieno notate questa contrapposizione tra dimensione soggettiva e oggettiva si possa vivere in grazia di Dio. La nota 351 dice In certi casi potrebbe essere anche l'aiuto dei sacramenti. Per questo ai sacerdoti dice ancora Bergoglio ricordo che il confessionale non deve essere una sala di tortura bensì il luogo della misericordia del Signore. Ugualmente segnalo che l'eucaristia non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Infine la nota 329 di Amoris Letizia che dice in queste situazioni molti conoscendo e accettando la possibilità di convivere come fratello e sorella che la Chiesa offre loro rilevano che se mancano alcune espressioni di intimità non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venire compromesso il bene dei figli. Dunque, amici cari, la domanda centrale che rivolgo a Francesco di fronte a un documento monumentale è ma Francesco, hai detto sì alla comunione per i divorziati e i risposati o hai detto no? Oppure hai detto ni? Oppure so? E' questo ciò a cui Bergoglio ha ridotto il Magistero? Sed contra. Adesso vediamo la seconda posizione. Il Vangelo di Matteo, al capitolo 19, versetti 3-9, è quello nel quale Gesù ribadisce il progetto originario del Creatore e conclude perentoriamente Quello dunque che Dio ha congiunto, versetto 6, l'uomo non lo separi. A nulla vale l'idiota quanto ridico l'affermazione del generale dei Gesuiti. Questi hanno perso tutti la testa e ve lo dico io che ho studiato alla Gregoriana, ho conosciuto professori insigni, che a quel tempo non c'erano i registratori. Perché Sosa sa bene che anzitutto ogni parola del Vangelo è canonica indipendentemente dalla fonte, se cioè l'ha detto Gesù o la prima comunità cristiana. E poi, perché, se così fosse, a riguardo della etica coniugale, dovrebbe valere per qualunque altro versetto dei Vangeli. Proprio loro, proprio loro, fautori del principio luterano, questo lutero che Francesco non fa che esaltare come santo riformatore del principio luterano del sola scrittura, si gettano la zappa sui piedi. La Familiaris Consortio, esortazione apostolica di San Giovanni Paolo II del 1981, dice che i divorziati risposati sono a tutti gli effetti dentro la Chiesa, che i pastori faranno di tutto per mettere a loro disposizione i mezzi di salvezza della Chiesa. E tuttavia, al numero 84, aggiunge la Chiesa ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro Stato, continua ancora il documento, e la loro condizione di vita, contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro peculiare motivo pastorale, dice Giovanni Paolo II, e questo è stato uno degli impegni fondamentali del Cardinale Caffarra. Se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sulla indissolubilità del matrimonio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi i Vangeli, abbiamo citato i Vangeli, il Magistero, il Familiaris Consorzio e il Catechismo. Appena nel 92, al numero 1650, ribadisce ancora di recente questo principio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla comunione eucaristica per tutto il tempo che perdura tale situazione. Terzo punto, Respondeo dicendo, Ne trago le seguenti conclusioni. Il mancato chiarimento da parte di Bergoglio su una questione così delicata e urgente è più che strategico. Se dicesse apertamente di sì, Francesco saprebbe bene di smentire con palese eresia il bagaglio della sana dottrina cattolica, giacché, come mi è stato insegnato e come anche io insegno, visto che sono teologo, il dogma assume un progresso che è rispettoso della tradizione. Non procede per rottura, ma per sviluppo. Ma non dice perciò neanche di no, Bergoglio, alle reiterate richieste dei cardinali, perché effettivamente Amoris Letizia è stata scritta con tale scamotage strategico. E così non dice né sì né no, ma in tal modo è proprio lui, non io, artefice della confusione che regna nella Chiesa, Cardinale Stella. Non io, e neppure i cardinali dei Dubbia, o più di recente i quattro vescovi e quell'altro cardinale merito, che hanno ritenuto errore formale a Amoris Letizia. E comunque i giacobini cattoprogresisti che oggi ne vorrebbero portarci alla ghigliottina con un odio mai visto solo perché chiediamo a Francesco di precisare cosa realmente ha voluto dire, sono quelli che ieri, nel pontificato di Benedetto XVI, innalzavano la bandiera del dialogo, della tolleranza, del rispetto delle posizioni diverse. Del resto Gesù ha detto in Matteo 5,37 il vostro parlare sia sì sì, no no, il di più viene dal diavolo. Il problema allora non sta semplicemente nel contenuto, cioè nell'assoluta novità introdotta da Amoris Letizia, che costituisce tuttavia una rottura con la prassi dottrinale e pastorale della Chiesa, ma anche nel metodo adoperato, che non è rispettoso delle coscienze e che induce nell'inganno. Infatti, proprio perché tale novità non è contemplata apertamente nel testo di Amoris Letizia, ma c'è solo una nota a margine, i cattolici, che rimangono legati alla tradizione, al magistero, hanno potuto credere di dovere persino difendere il Papa. Ma chi ne sanno questi giacobini che mi vogliono molto, chi ne sa il carino e stella, come all'inizio, quando è stata pubblicata Amoris Letizia, io difendevo il El Bergoglio, lo difendevo El. Capito? Perché non immaginavo mai che lui volesse prenderci in giro. Ci sta prendendo in giro se continua così. Se non chiarisce, è palese, di fronte alla storia e soprattutto di fronte a Dio che Bergoglio ci sta prendendo in giro se non chiarisce. Deve dire sì o no, non può dire nì o so, non può rimandare tutta ad una nota, lasciando che i vescovi si scornino tra di loro. E lui fa autore della confusione, Dio mio, un dolore immenso. Quanti avevano pensato questo? Hanno voluto difendere all'inizio, lo sappia Bergoglio, questo Papa, lo volevamo difendere dall'accusa di voler introdurre una novità dal sapore eretico. In realtà si attendeva per questo che egli potesse appunto confermare questa linea. E invece nulla. Nulla significa nulla. Capito? C'è tempo per accogliere in Vaticano i transessuali che cambiano sesso e si sposano. C'è tempo per tutto, per andarsi a comprare le scarpe, l'orologio e gli occhiali, ma non c'è tempo per rispondere a questo, diciamo, battage di cattolici che taglia gole. Siamo cattolici taglia gole. Nel frattempo, quanti si sono sentiti come traditi in un modo o in un altro hanno rivolto degli appelli specifici. Ci sono i famosi dubbia dei cardinali e poi il modo sempre ritenuto eccessivo come quello del sottoscritto. Ma cosa volete a me? Lasciatemi in pace. Sono fatto così? Sono fatto così, amici cari. E come detto, la dichiarazione dei quattro vescovi è di un cardinale merito per non parlare della perplessità sempre più ampia espressa da giornalisti cattolici non allineati. I dubbia restano senza risposta. E così, nel frattempo, le conferenze nazionali e persino regionali si muovono come meglio ritengono. In Polonia si stabilisce che no, non si può dare la comunione di divorziati e risposati. Nella vicina Germania stanno già addirittura discutendo di benedire in chiesa le nozze gay. In Argentina l'episcopato come Bergoglio evidentemente auspicava è del tutto spaccato e così via. In Sicilia i vescovi hanno auspicato questo. Addirittura viene fatta passare come versione ufficiale la benedizione di Bergoglio ai vescovi argentini che hanno interpretato Amoris Letizia in chiave di apertura. Questo è appunto il problema elementare. Un testo del Magistero non va interpretato, va attuato. Poi, quelli come me che hanno chiesto chiarezza hanno ricevuto come risposta di misericordia i canoni del codice di diritto canonico. Ma il metodo al di là del contenuto è molto pericoloso. Direi che è persino diabolico. Anzitutto perché Gesù come dicevamo ha detto il vostro parlare sia sì sì no no e poi perché introduce un precedente. Se con il registro tipico di Bergoglio che è quello dell'ambiguità collaterale si è potuto innescare un processo divisivo tra vescovi e conferenze tra preti e vi comunico cari amici che sono informato perché ormai vengo raggiunto da tutta Italia di contrasti dentro le comunità religiose maschili e femminili chi pro e chi contro capito altrettanto potrà essere fatto con gli altri temi in agenda celibato sacerdotale diaconato alle donne messa ecumenica relativismo salvifico presenza reale eccetera tutto sarà sempre portato avanti in nome della chiesa che si modernizza e che si apre e così noi rimaniamo retrogradi e farisei dal cuore duro e se insistiamo veniamo buttati fuori in nome del Papa della misericordia del Papa che vuole ponti e non muri l'elenco elegante e rispettoso di Bergoglio verso chi filialmente con rispetto gli domanda chiarezza è ampio e documentato vecchie comari sgrana rosari cristiani ideologici signori pianistei mummie da museo musi lunghi cristiani pappagallo battitori da inquisizione fondamentalisti marci nel cuore marci col cuore nero cavillatori molaristici il metodo è questo che importa non i contenuti così facendo quando ci saranno pastori che si alzeranno in piedi per dire no alla comunione divorziati e risposati Bergoglio potrà soltanto aggiungere che essi sono farisei dal cuore duro che non sono aperti alla misericordia degni di essere apostrofati come oppositori del novello messia Bergoglio promotore della misericordia e carnefice dei suoi detrattori in verità amici cari due medici sono in campo di fronte a un malato di tumore in metastasi l'uno gli somministra un paio di ansiolitici antidepressivi e lo manda a casa promettendogli la guarigione che però è impossibile l'altro invece auspica vivamente la terapia parla del male così come si deve e propone anche l'intervento chirurgico il primo è pericoloso e menzognero però suscita la reazione simpatica del povero paziente il secondo è veritiero e realista ma il primo medico lo presenta al povero paziente come inaffidabile e impietoso senza misericordia ebbene amici cari il malato terminale è questa povera umanità peccatrice quella per la quale la Santa Vergine non ultima a Cittavecchia in diverse occasioni il messaggio ha versato lacrime di sangue di dolore il falso medico è questa impalcatura della falsa chiesa che dispensa misericordia senza chiedere conversione il vero medico invece è il piccolo resto che rimane ancorato alla sana dottrina cattolica che procede non per rottura ma per evoluzione che chiama il peccato peccato e misericordia frutto del pentimento che Bergoglio non sia più lesivo della nostra dignità glielo chiediamo imploranti ha superato il limite mi spiace per i codardi e i vigliacchi che sono consapevoli e tacciono così procedendo il meccanismo diabolico è bello e fatto saremo ghettizzati sta per nascere il ghetto cattolico come c'era il ghetto degli ebrei noi passeremo come i farisei che stanno contro l'umanità in questo è proprio da biasimare l'uso strategico del linguaggio che induce le masse in errore e poi da condannare l'atteggiamento in alcuni casi ipocrita in altri interessato nei confronti del governo attuale quelli che ieri di fronte al motu proprio summorum pontificum con cui Benedetto XVI ha reintrodotto la messa a Vetusordo hanno crocifisso Ratzinger il papa che se ne è andato e ci ha lasciato in preda ai lupi sono quelli che oggi idolatrano Bergoglio dimenticando che di fronte a certo errore persino l'apostolo Paolo rimproverò Pietro come scritto nel Nuovo Testamento Galati 2.11 mi opposi a lui apertamente perché aveva torto concludendo primo se la Santa Sede ha confermato la rimozione da parroche e la sospensione delle facoltà sacerdotali giustificando in tal modo l'accusa che le motiva e cioè che io attento la comunione ecclesiale poiché il diritto è cogente e la legge è massimamente distributiva di sentenze equanime cioè vale per tutti perciò tutti coloro che come sottoscritto hanno in un modo o in un altro manifestato perplessità e disagio di fronte all'ambiguo magistero di Bergoglio possono ritenersi altrettanto attentatori della comunione ecclesiale e perciò rimossi e sospesi o come sarebbe auspicabile che i tanti preti e vescovi che ne sono consapevoli facessero questo gesto profetico e se no pensiero da regime e dittatura bergogliana seconda conclusione la causa di rimente della questione non è attribuibile alla mia denuncia alla quale non è mai stata data alcuna risposta indecernendo ma all'ambiguità di amoris e letizia priva di chiarezza a riguardo di un tema talmente decisivo da coinvolgere l'etica coniugale la sacralità dei sacramenti la questione del rapporto tra grazie e stato di peccato la trattazione teologica e canonistica dell'indissolubilità del matrimonio come vista dal progetto del creatore dove andrà a finire questo sinedrio bergogliano se continuerà a rispondere alle legittime domande di chiarimento con la condanna e il codice di diritto canonico terza ed ultima conclusione ma c'è di più ed è il punto conclusivo per il principio di non contraddizione e per l'istituto giurisprudenziale del divieto di bis in idem cioè del doppio giudizio la rigorosa applicazione della legge prevede che la sentenza sia unica e non contraddittoria ciò vuol dire in parole povere amici cari se stai parlando un po' così ma mi capite quanto è importante l'argomento che se si dimostrerà che la legittima richiesta di chiarimento a riguardo del documento magisteriale di Amoris e Letizia e non solo non trova riscontro se non nella violenta applicazione di norme di condanna allora il sospetto di eresia e di attentato alla comunione ecclesiale ricade non più su coloro che richiedono da sudditi legittima spiegazione ad un pronunciamento non chiaro ma esattamente in colui da cui l'atto o il pronunciamento proviene ergo dunque è più che attendibile se non ci sarà un pronunciamento chiaro di Bergoglio che non io prete di periferia sono attentatore della comunione ecclesiale ma egli venuto dalla fine del mondo in quanto ostinatamente e palesemente decisa non voler chiarire incorre nella sentenza di rimozione dall'incarico di pontefice e nella sospensione di ogni facoltà giacché la legge è uguale per tutti e come si trova scritto nella sacrestia della parrocchia Villa Abate del mio amico parroco Ricotta chi è cattolico deve obbedire alla dottrina cattolica questo vale per tutti nessuno escluso non si è mai visto cari amici mai visto che di fronte alle richieste di chiarimento che sono garanzia di comunione e alla luce peraltro del concilio Vaticano II il Papa anziché chiarire e benedire condanna e tira via dalla Chiesa e per favore Eminenza Beniamino Stella sia realmente più serio non prenda prestito di questione canonistica quello che è addirittura un reato di estersione mi riferisco al malevolo montaggio delle Iene dove tutto serve a forviare dei contenuti distorcendo la realtà che una sacra congregazione Vaticana a firma di un eminente cardinale prenda a prestito un'estorsione mediatica e si appoggi ad una trasmissione irriguardosa dei più elementari e basilari diritti di privacy ciò non solo è ragione di sconcerto ma procura in me scandalo Gesù ha detto guai a coloro che scandalizzano i piccoli Eminenza sono realmente scandalizzato nel vedere lo stato impietoso del Vaticano lei ne renderà conto dinanzi al tribunale di Dio nel frattempo dovrò forse prepararmi a nuove incursioni chissà troveranno forse nuove improbabili e fallimentari frontiere pedinamenti intercettazioni telefoniche tentativi reiterati di estorsione cari amici io sto abbastanza bene in salute non ho problemi al cuore guido con grande attenzione e sportività la macchina chi può capisca qualunque cosa possa accadermi ebbene d'ora innanzi sospettate abbondantemente madre mia mi affido a te Amen sia lodato Gesù Cristo appreditai